a tutti e benvenuti nel mio canale oggi andremo a preparare insieme i funghi champignon ripieni credenti che ci occorreranno sono 10 funghi champignon grana padano grattugiato quanto basta pan grattato quanto basta due spicchi d'aglio prezzemolo quanto basta sale e olio extravergine d'oliva prima cosa dobbiamo andare a togliere il gambo dal fungo e tritarlo finemente allora togliamo in questo modo il gambo vedete e lasciamo questa parte così facciamo la stessa cosa con tutti gli altri siamo finemente questa parte e lo mettiamo all'interno di una ciotolina dopo aver tritato tutti i funghi vedete il gambo dal funghi dobbiamo aggiungere il pangrattato l'aglio il formaggio prezzemolo e olio abbondante olio e con un cucchiaio andiamo a mescolare il tutto metto anche il sale mescoliamo il tutto e adesso siamo pronti per riempire i funghi andiamo a riempire i funghi in questo modo vedete così e facciamo in questo modo per tutti i funghi dopo averli preparati tutti prendiamo una teglia la rivestiamo con carta da forno sul fondo mettiamo un filo di olio e poi adagiamo i funghi dopo averli sistemati mettiamo un altro filo di olio sopra e inforniamo a 170 gradi e il tempo di cottura ve lo dico alla fine sono trascorsi 18 minuti i funghi sono pronti adesso vado ad impiattare e i miei funghi sciampignone ripieni sono pronti adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate guardate all'interno come si presenta guardate all'interno guardate all'interno guardate all'interno guardate all'interno